ciao ragazzi io sono pod no no ma nel video che voi forse avete visto precedentemente sono una ragazza che ha fatto la voce di pod e vi ringrazio vi ringrazio tantissimo per i commenti i complimenti e per le visualizzazioni in pratica sto video è nato dal nulla abbiamo detto cioè noi guardavamo dire fare baciare ed eravamo allibite al che abbiamo detto beh dai facciamolo così ma per farlo quindi è fighissimo che abbiamo avuto tutte queste visualizzazioni e grazie a questo proposito sono qui però non c'erbi che io e la mia adorabile compagna struccata e faremo faremo dei nuovi video ci stiamo pensando ci stiamo ingegnando per fare dei nuovi video e quindi speriamo che che vediate anche quelli a presto